Buonasera da Gabriele Giustiniani e benvenuti a Valladolid. 50 giorni dopo tornano in campo i campioni di Spagna. Torna in campo il Real Madrid nei giorni in cui il mondo piange, ricorda e omaggia la leggenda di Orey Pelé. Occhio a Valverde, Benzema, centrale, arriva a Senzio col piazzato, Masip con la prima parata della partita. Non è finita, Sebaio si insiste al Madrid, palla al centro, forse tocco con il braccio che però è regolare secondo Monuera Montero. Trosse vicino Valverde che giustamente lascia scorrere perché c'è Vinicius, già messo bene. Fronte alla porta, Masip para, poi Benzema, l'ha sbagliato, l'ha sbagliato. Vinicius prova ad attaccare, Vinicius in area di rigore, Masip blocca. Ivan Sanchez dopo il cambio di gioco, uno contro uno, esterno, poi pallone verso il secondo palo. Grandissima parada di Courtois. Gran volo di tipo Courtois. Roque Mesa. Aguado. Ancora lui. Aspetta. Ci riprova! Stavolta non serve l'intervento di Courtois. Pallone verso Rudiger. Mandalato. Aguado. Cross direttamente in porta, Courtois deve usare le mani. Cross dentro, Courtois con un paratore. Parata allucinante di Courtois su Sergio Leone. Rodrigo fa girare, Sebaglio sa fare il centro avanti. Vinicius punta, destro sinistro, Vinicius va fino in fondo, Vinicius! Ha cercato un gol d'antologia, Vinicius Junior, palla fuori. Vinicius, vicino a Rodrigo. Benzema. Zona tiro, Benzema. Zona tiro, calcia! Deviazione di Masip, calcio d'angolo. Cross dalla bandierina, ancora verso Benzema. Rimpallo. Due giocatori del Valladolid per terra. Viene richiamato al VAR da Gilmanzano, Moenuera Montero. Tocco con la mano da parte di Avi Sanchez. Calcio di rigore. E cartellino giallo. Mentre qui, attenzione perché i cartellini non sono finiti. Rosso per Sergio Leone, che evidentemente ha detto qualcosa di troppo incredulo. Sergio Leone. Parte Karim Benzema. Di nuovo in Spagna, di nuovo in Liga, di nuovo con il Real Madrid. Di nuovo a casa Karim Benzema. 1-0. Kamaving è più fresco e scappa via. Entra nella di rigore. Al centro c'è Benzema. Controllo. Benzema! Troppo facile. Ritorna con doppietta. Karim Benzema. E chiude il discorso. Lo strappo di Kamaving determinante. Il killer instinct di Karim Benzema. Tutti nel tunnel. Grazie alle parate di Courtois e alla doppietta di Karim Benzema. Il Real Madrid vince contro il Valladolid. Lo fa per 2-0. Grazie a tutti. Grazie.